è molto, molto alto questa reazione si chiama canzone arancione come le pareti di questo spazio solo che ovviamente è una reazione tristissima come le pareti di questo spazio professore forse ha dimenticato di tornare prendo la sua porta e ora ti accorgi questo pezzo di carta e ora ti accorgi 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 Grazie.